Stasera è sabato, siamo soli a casa e io ho una sorpresa per te! No, beh, da mai sempre! Stasera rimarrà incatenato al divano! Sporcaccione! Stasera urlerai e piangerai! Sì, sì! Sei pronto? Prontissimo! E allora, musica! Musica! Vai Maria! Amore, ma che cosa è questa cosa? Amore, stasera c'è c'è un posto per te? No, amore! E di conseguenza non c'è più sabato per te! No, amore! Ciao! Eccomi Maria, sono arrivata! Qui dovremmo trovare Claudio! Amore, ma che fai? Io ho un invito per te da parte della signora Mariaide Filippi! Sì, sì! Io so che tu oggi indossi un maglione giallo e grigio! Non lo stai vedendo! Ma chi do mai andare? So che sei un maschio! Ma chi docento che sono maschio! So che hai il pisellino piccolo! No, non ho il pisellino piccolo! Perfetto! E allora questa è proprio per te! Amore, non serve! Ti ringrazio! E noi a fine consegna diciamo sempre una cosa! Ma fanculo! C'è posta per te! Amore, ti rendi conto? Lui le ha messo le corna con tre ragazze diverse ore lì per chiederle scusa! Lo vedi appena tu mi metti le corna con tre ragazze diverse mi porti a c'è posta per te? Io non te la apro la busta! Puuu! Ma io che cosa facendo io? Che cosa ho fatto io? C'è amore ma ti rendi conto? Quel ragazzo gli hanno rubato la macchina gli hanno bruciato la casa! E' pieno di debiti però è un ragazzo che porta amore! No amore che c'è un ragazzo che porta sfiga amore che c'è poi il tastato! Non aprire la busta che muore appresso a lui! Sei un'insensibile! C'è amore lui non ha perso la busta ai suoi genitori che non vedeva da dieci anni! Lo vedi appena tu non apri la busta ai suoi genitori che non vedi da dieci anni? Io ti ammazzo! Perché la famiglia si rispetta! Ma l'educato! Ce l'apro ai miei genitori ce l'apro! E mi piacerebbe... Brava Maria! Brava! Brava! Che cosa ti ha detto? Lei aveva tre dici anni... Che tu fai? Ma ti rendi conto che questo ha abbandonato sua moglie con due gemelline di due mesi? Lo vedi appena tu mi abbandoni con due gemelline di due mesi? Dai amore forza che questa è l'ultima storia! Amore basta andiamo a letto amore tanto che cosa deve succedere di più? Io sono Carmelo e vengo dalla Sicilia! Oddio no! I siciliani non c'è posta per te no! Perché io sono qui cara Maria è perché io ho i valori della famiglia alti perché sei io! Mi raccomando i verbi! Carmelo i verbi! Perché sei io! Fossi! Se fossi! Perché sei io! Sei tutti noi Carmelo dai dai dai! Perché sei io! Perché se io sarei come a qualche Naboto io a quest'ora l'avrebbe connudiata adesso a sinistra! E ti vedo Maria se io sarei come a qualche Naboto! Lo vedi? E anche per quest'anno abbiamo fatto la nostra bella figura di merda! Che se ci sarei andato io sarei stato più meglio! No vabbè me ne vado! Ohhhh!